C'ho da avere 20.000 euro d'azioni, ho 70 anni, quando me le ridanno? Non so, più c'ha da avere loro, i giovani c'ha da avere parecchi. Noi un 80% già l'abbiamo avuti, però se il problema non sarà posto saranno molto più contenti. Fede al Consumatori incontra ad Arezzo i risparmiatori per fare il punto sui rimborsi agli azionisti della vecchia Banca Etrugia e decidere le azioni per il futuro e soprattutto si chiede che quello che è il provvedimento collegato alla finanziaria proprio per questo tipo di rimborsi venga rivisto. Innanzitutto non ci piace una cosa che è la palissiana. In campagna elettorale hanno fatto il viotto, gli attuali segretari dei partiti che sono in governo. Per dire che i risparmiatori erano stati truffati e che era ignobile che fossero stati loro riservati un rimborso parziale perché loro avevano diritto al 100%. Viene fatto il provvedimento, l'articolo 38, appunto di cui dicevo prima, viene fatto il provvedimento dei risparmiatori obbligazionisti alzerati che hanno ricevuto il rimborso parziale, neanche si fa menzione. E quindi il primo ammendamento che abbiamo presentato è proprio quello che si ripristini il diritto ad ottenere il 100%, così come ne è stato promesso in campagna elettorale, per queste persone. Anche perché c'è una sostanziale differenza. Un obbligazionista presta i soldi alla banca e ha il diritto di riaverli indietro. Un azionista, ancorché in maniera suffaldina, ma è uno che sa che investe in capitale di rischio. E quindi giusto il rimborso per gli azionisti, ma nel momento in cui è senato il vundus con gli obbligazionisti. Io sono uno di quelli che praticamente ha ripreso l'80% di quello che ha investito, insomma. E per il resto, diciamo, qualche mese fa ho rinunciato. Ti è soddisfatto per come è andata? Per come è andata sì, per come potrebbero essere messe le cose, diciamo che sono non completamente, però abbastanza, insomma. Avete ottenuto qualcosa? Sì, qualcosa sì, ma... Però ancora? Però ci hanno sempre fregato, comunque sia. Avete spieganza nel governo che... Speriamo. L'han detto, però ora dicono. Speranza c'è però.